Sono stati posti agli arresti domiciliari i fratelli Vincenzo e Sabina Ladogana, rispettivamente di 40 e 46 anni, Luigi Gentile di 29 e Raffaella Cusmai di 27. L'attività investigativa è iniziata a seguito dell'arresto avvenuto il 23 marzo scorso di Vincenzo Ladogana e Luigi Gentile, trovati in possesso di mezzo chilo di cocaina e di tutta l'attrezzatura utilizzata per il confezionamento della droga, oltre a 4.000 euro in contante. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche alcuni quaderni che fungevano da veri e propri libri contabili, sui quali gli arrestati annotavano acquisti e vendite dello stupefacente, compresi gli acconti, le giacenze e i regali effettuati come campioni per l'assaggio. Per tali fatti gli arrestati sono già stati condannati alla pena di quattro anni di reclusione. Le indagini sono però proseguite per il coinvolgimento di altri soggetti, alcuni dei quali congiunti degli arrestati. L'indagine ha consentito l'individuazione di altri parenti che operavano l'attività illecita di spaccio, prevalentemente a Cerignola e nei comuni limitrofi del Basso Tavoliere, e ha permesso di accertare numerosi episodi di spaccio, alcuni dei quali avvenivano attraverso l'utilizzo di minori che svolgevano la funzione di vedette per controllare e verificare il sopraggiungere delle forze dell'ordine. Il giro d'affari stimato è pari a circa 150.000 euro.